E benvenuti a L'Alba del Futbol, l'unica rubrica sportiva per la quale il calcio italiano è finito nel 1935, quando è andata in Serie B la Provercelli. No, ma dopo non ha più senso, dai. Comunque, poco meno di un anno fa io ho fatto una promessa in un video, ho detto fra meno di un anno faccio il prossimo video sul Genoa. Poi io francamente della promessa mi ero anche dimenticato, ma un mio solerte estimatore mi ha ricordato la cosa, mi ha detto bada che prima del 7 maggio 2020 devi fare il video sul Genoa, se no sei spergiuro. E io lo faccio molto volentieri, ma molto volentieri, un video sul Genoa. Allora, il Genoa Cricket and Football Club, fondato nel 1893, la più antica squadra di calcio italiana fra quelle ancora esistenti. Già questo basterebbe per renderla mitica, ma le cose si fanno ancora più mitiche, diciamo, di lì a poco, perché nel 1897 sbarca nel porto di Genova un medico inglese che risponde al nome di James Richardson Spensley. E Spensley è una specie di superuomo, è un medico, è un filantropo, è uno che aiuta il prossimo, fa del bene agli altri, ha una cultura straordinaria, conosce il greco antico, traduce dalla lingua dell'India antica il sanscrito ed è anche un grande sportivo. Ama la box, per esempio, che nella storia di pugili che sapevano tradurre dal sanscrito ce ne sono stati pochissimi, proprio pochissimi ce ne sono stati. E ama il calcio. E allora, insomma, entra nel Genoa Cricket and Football Club, ne diventa capitano, perché come fai a non far capitano uno così, uno come James Spensley, dai! E si mette a giocare nel ruolo di portiere. Ci sono delle foto, poche, poche, comunque ci sono delle foto dell'epoca bellissime dove si vede Spensley in porta, con la barba lunga, i baffoni, con la camicia, non ha una casacca, ha una camicia normale, bianca, con le maniche arrotolate, senza guanti, bellissimo. E, insomma, lui ha l'idea di aprire le iscrizioni della squadra agli italiani, perché sennò si poteva giocare solo fra inglesi. Solo gli inglesi potevano giocare nel Genoa. Da Spensley in poi possono giocare anche gli italiani. E nel 1898 il Genoa, con Spensley in porta, partecipa a quello che è il primo campionato di calcio d'Italia. Dura poco, il primo campionato dura, sono quattro squadre, quindi dura un giorno ed è esattamente l'8 di maggio del 1898, quindi fra poco c'è anche la ricorrenza. Dunque, quattro squadre. Giocano la Torinese, il Ginnastica Torino, l'Internazionale Torino e il Genoa. Si gioca ovviamente a Torino, si gioca al velodromo Umberto I, non c'è neanche lo stadio, c'è il velodromo, va bene. Insomma, il campionato è presto raccontato, un giorno è prima partita internazionale Torino-Torinese, 2-1 per l'Internazionale Torino, seconda partita Genoa-Ginnastica Torino, 2-0 per il Genoa e poi la finalissima Genoa internazionale Torino che vede il Genoa prevalere per 2-1. Quindi diventa campione d'Italia per la prima volta in assoluto nel calcio, il Genoa, ma il Genoa non si ferma lì. Vince anche il campionato successivo, quello del 99, ma anche quello successivo, quello del 1900, poi il 1901, no, pausa, pausa un attimo, il 1901 vince il Milan, ma poi 1902, 1903, 1904 vince ancora il Genoa. Nel 1906 James Richardson Spensley, il sazio di vittorie, appende gli scarpini al chiodo e da lì in poi il Genoa smette di vincere. Attraversa un periodo di oscurità e il prossimo campionato che vincerà sarà un campionato drammatico, quello del 1914-1915, che viene ovviamente interrotto per la prima guerra mondiale, poi fra corsi e ricorsi, contestazioni e conferme, viene attribuito comunque al Genoa, che al momento dell'interruzione era in vantaggio, guidava la classifica. La guerra è devastante non solo umanamente, non solo economicamente, anche dal punto di vista sportivo, perché il Genoa perde al fronte metà della sua squadra e al fronte muore anche Spensley. Durante un conflitto vede in terra un soldato, è un ufficiale tedesco, quindi è un nemico, è un nemico, lo dovrebbe uccidere, lo dovrebbe finire, ma lui è un medico, lui è Spensley, è un medico, soccorre quest'uomo ferito che è il suo nemico e in questa azione eroica viene colpito mortalmente e dopo un mese di agonia ci lascia il grande James Richardson Spensley, grandissimo eroe. E poi di nuovo il Genoa smette di vincere per molto tempo, finché nel 1923 diventa di nuovo campione d'Italia e allora succede una cosa bellissima, che fa una specie di tour, un viaggio premio nelle Americhe, quindi fa una serie di partite, il Genoa così, festose, con alcune squadre sudamericane, ma l'evento clou è quello in cui a Buenos Aires il Genoa non incontra una squadra argentina semplicemente, ma la nazionale argentina, cioè la nazionale argentina. Allora, partita importantissima, nello stadio di Buenos Aires 50.000 spettatori, arriva a battere il calcio d'inizio il presidente della Repubblica, il presidente della Repubblica Argentina, Torquato de Alvear, arriva serissimo con il suo capottone nero. Ora sapete che il calcio d'inizio di solito è una pura formalità, cioè lo fanno battere in alcune particolari circostanze, alcune partite, un bambino, un anziano, una signora, una signorina di bella presenza che fa lì la valletta, insomma, un'autorità, quindi uno tocca la palla col piede, così simbolicamente, poi ecce dal campo il prima possibile e comincia la partita vera e propria. Invece il presidente della Repubblica Argentina, Torquato de Alvear, arriva, tutto serio, guarda un po' la situazione, e calcia la palla con gran tocco e gran visione di gioco in avanti per il centro che è pista della reazione argentina che va, va, corre, corre, corre sulla fascia, corre sulla fascia, corre sulla fascia, crossa al centro per l'attaccante dell'Argentina che... Gol! Su azione nata dal presidente della Repubblica. Allora, i giocatori del Genoa cominciano ad appellarsi, insomma, si lamentano, ma si lamentano con l'arbitro, ma l'arbitro non li ascolta, anche perché è una situazione in cui è un po' imbarazzante, insomma, discutere, è anche difficile la rimostranza, cosa dici, no, arbitro, fischi perché il suo presidente della Repubblica è stato disonesto, cioè, perché poi cos'è che pretendi esattamente, no, perché lui doveva battere il calcio all'inizio però per finta, lui invece ha battuto davvero, invece doveva calciare, era un calcio regolare però dato per finta, insomma, capiscono che non possono fare appello al regolamento, e allora infuriati per questa ingiustizia, i giocatori del Genoa reagiscono, giocano meglio che possono, giocano meglio che possono e lì, a dieci minuti dopo questa truffa, la vogliamo chiamare truffa, chiamiamola truffa, ecco, si leva in aria Aristodemo Santa Maria, era un calciatore, si chiamava così, si chiamava così, Aristodemo Santa Maria, detto anche Santa Maria Primo, per non confonderlo col fratello Stefano Santa Maria che giocava nella Novese ed era chiamato Santa Maria Secondo, perché i giocatori avevano dei nomi quasi da papi, comunque, Aristodemo Santa Maria al limite dell'aria si alza in volo, colpisce la palla di testa e fa gol, fa gol di testa dal limite dell'aria che è una cosa dell'aria che è una cosa epica, quasi incredibile, però le cronache riportano questo e quindi alla fine la partita Genoa-Argentina finirà 1-1. Genoa rientra in patria l'anno successivo, quindi, nel 24, c'è il primo scudetto, hai detto nel 1898 il primo campionato, sì, ma una cosa è il campionato, una cosa è lo scudetto, cioè lo scudetto, quella forma, quel piccolo scudo con la bandiera italiana viene assegnato solo a partire dal 1924 quando il campionato di calcio ha una forma un po' più sensata, un po' più simile a quella attuale, non è una squadra, non è una roba di un giorno con quattro squadre e chi lo vince, il primo scudetto italiano, ovviamente, il Genoa è la nona e ultima volta che il Genoa diventerà campione d'Italia, cioè il Genoa è una squadra straordinaria che vince, 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 però vince solo quando la vittoria è qualcosa di epico, qualcosa di eroico, qualcosa di disperato, se no non si spreca, insomma. E io penso che sia meraviglioso, io penso che qualunque squadra uno tifi, come la pensi, comunque la pensi, se ama il calcio, deve amare un po' anche il Genoa, ma come fai? Ma come fai a non amare una squadra così, una squadra dove il capitano è un pugile che traduce dal sanscrito, uno che poi muore in guerra soccorrendo un nemico, uno che ha tutta una squadra dove hai magari tutta una nazione contro, col presidente della Repubblica che è disonesto e tu reagisci non spaccando tutto, no, giocando e segnando un gol di testa dal limite dell'area. Dai, dai, viva il Genoa! Ehi,